Ciao, sono Fulvio Magliola. In questo tutorial andremo ad analizzare la Ethernet LAN, lo switching della Ethernet LAN, ovvero come funzionano gli switch all'interno di un frame Ethernet. Vediamo come prima argomentazione i concetti iniziali di una LAN switching, quindi come funzionano più LAN all'interno di una rete, di un campus o di un data center. Poi andiamo a vedere la panoramica della logica dello switch. Ed infine vediamo come lo switch impara i MAC Address e lo Unicast Frames. Queste cose le avevamo viste già precedentemente. Metterò dei link per andare a vedere quello che avevamo fatto. Vado su Packet Tracer. Come vedi qui ti mostro una rete gestita dagli switch, quindi parliamo di layer 1 e layer 2. Sulla sinistra è un campus LAN, quindi come vedi ci sono dei PC, dei semplici PC. Ho messo dei PC ma potrebbero essere anche dei laptop, potrebbero essere degli smartphone o quant'altro. Poi essi vengono collegati a degli switch e c'è una comunicazione fra tutti questi switch per poi andare verso i server, come vedi sulla destra. Infatti quello a sinistra è un campus LAN, quello a destra è un data center LAN. Quindi quelli che sono i client cosiddetti che vanno a comunicare con i server e vengono gestiti i dati che i server fornisce. Ripeto questa non è una rete internet, parliamo solo di client e di server. Non so se stai notando il collegamento che già c'è tra i computer e lo switch e gli switch fra loro. I cavi di comunicazione che sono, anche se attualmente simulatori, però sono fisicamente dei cavi di rete. Come vedi i cavi tratteggiati sono dei cavi cross o dei cavi incrociati. Perché sono dei cavi incrociati? Perché comunicano con dispositivi dello stesso layer. Questi sono degli switch e quindi sono di layer 2, allora utilizzano lo stesso layer. Mentre invece i PC che si comunicano verso lo switch, oppure i server che comunica a stavolta verso lo switch, utilizzano dei cavi dritti. Perché il cavo di rete va a comunicare con una scheda di rete LAN dentro il server o dentro il pc, layer 1 verso uno switch layer 2. Come vedi qui c'è una certa confusione di cavi di rete ma in realtà questa cosa è veramente normale. Anzi è anche poco ridondata. Cosa intendo per ridondato? Intendo che ogni pc che comunica verso uno switch e a sua volta dovrà andare a comunicare con un server, poi che esso chieda magari un sito web o magari qualsiasi altra cosa in una intranet, è chiaro che dovrà avere la possibilità di comunicare per poter poi andare verso il server. E infatti come vedi ogni switch, degli switch che sono posti qui sulla destra e anche sulla sinistra, sono collegati, come vedi lo switch 0, questo in alto, è comunicato sia con uno switch e a sua volta con un altro switch. E lo stesso gli altri switch. Perché succede questo? Perché quando noi dobbiamo cercare di mantenere una connessione sicura, dobbiamo dare la disponibilità in ogni momento di una qualsiasi connessione e qual è la possibilità? Che magari per qualsiasi motivo, non so perché qualcuno spenge lo switch 5, perché ha un crash particolare nel suo sistema operativo o quant'altro, e questo switch non riesce più a trasmettere i dati. Allora cosa fa lo switch 0? Trasmette i dati sull'altro switch. E la stessa cosa vale per tutti i computer. Allo stesso modo quando arriviamo agli switch che comunicano fra campus LAN e datacenter, anche loro vengono connessi addirittura per altri tre switch. Ovvero nel caso in cui uno viene disconnesso verso uno switch, ha la possibilità comunque di essere reindirizzato ad un altro switch o a sua volta da un altro switch ancora. Noi non so se avete mai visto un rack praticamente dentro un server, una server farm ce ne sono tantissimi di rack. Qui è mostrata in maniera visibile per far capire come funziona, però di fatto i rack hanno una complessità molto ma molto maggiore rispetto a questa. Quindi utilizzando questa modalità noi forniamo una stabilità dei computer verso il server. Lo switch di per sé come fa a riconoscere il suo prossimo device? Ad esempio perché lui prende un messaggio da pc 0 e lo inoltre ad un altro switch? Perché lo switch è quello che va a verificare, perché parliamo del data link layer, come al solito ti metto i link per andare a guardare nel caso tu non ricordassi, e quindi dovrà fare in modo tale che dovrà inviare quel frame, quell'ethernet frame che gli è arrivato verso un altro destination MAC address. Andiamo a vedere un destination MAC address. Questo è il destination MAC address, quindi parliamo di data link layer, quindi layer 2. Che cos'è che va a leggere leader del frame? Nel leader va a leggere il destination MAC address, che è composto da 6 byte. Quindi qual è l'azione che fa il frame? Il frame va a controllare questo frame, questo ethernet frame, e inoltre il frame basandosi sul destination MAC address. Poi, come seconda azione, prepara il forward, cioè prepara l'inoltro del frame, imparando a sua volta il source MAC address e il destination MAC address. Quando riceve il frame da un computer, ad esempio da pc 0, lui che cosa fa? memorizza. Primo il MAC address del sorgente, quindi del pc 0, poi memorizza anche il MAC address di destinazione, imparando così questi due MAC address. E dove li va a mettere? Li va a mettere in una tabella, in una MAC address table. Una MAC address table può essere chiamata MAC address table, può essere chiamata switching table, può essere chiamata CAM table, che sta per content addressable memory table. Tutte e tre sono la stessa cosa, sono una MAC address table. Quindi fatto questo e avendo preparato l'inoltro, il forward l'inoltro, prepara una sola copia del frame verso la destinazione, creando un ambiente loop free, con gli altri switch, uscendo attraverso lo sparring tree protocol. Questo è un altro protocollo che vedremo in seguito, però di fatto lui va a creare uno unicast frame, fra il MAC address sorgente e il MAC address di destinazione. Da questo momento in poi, una volta che lo switch ha imparato tutte e due i MAC address, ogni volta che uno dei due indirizza un messaggio verso l'altro, hanno una sola via, perché ogni volta che viene inviato un frame, lo switch va a controllare il MAC address. Diciamo che fra queste tre opzioni, o queste tre azioni che ti ho elencato, decido di inoltrare il frame, preparo il forward e quant'altro, diciamo che la prima è la più importante, perché è quella dove cattura il destination MAC address, cioè dove andrà a finire il frame. Ma anche le altre due non sono da meno, perché se non ha nessuna delle tre, probabilmente il frame viene ignorato dallo switch. Andiamo a vedere in maniera pratica come lavora un MAC address table su uno switch. Ritorniamo su Packet Tracer. Quindi apriamo uno switch e ingrandiamolo così lo vedi meglio. Adesso fai conto di essere su uno switch vero e proprio, questo è un simulatore, però è una copia perfetta di quello che può essere uno switch. Quindi comunicherai in questo modo, come al solito, attraverso la console oppure attraverso qualsiasi altro indirizzo IP, ma queste cose le vedremo in seguito. Ok, digiti enable per andare a un livello superiore dove hai più diritti e vediamo cosa c'è dentro la MAC address table. Quindi show MAC address table. Come al solito con il tab finisce la parola chiave, quindi show MAC address table. Invio. Come vedi nel MAC address table non c'è niente, è vuoto, perché di fatto i dispositivi fra loro non hanno comunicato. Quindi allora andiamo a farli comunicare. Torniamo indietro, lo chiudo e io, come ti dicevo, gli ho dato già un indirizzo IP. Quindi apro il mio PC, come qui c'è un command prompt, questo che magari può essere un sistema di Windows, ma anche un'altra shell di Linux o il Mac o qualsiasi altro computer. E cosa faccio? Vado a fare un ping a Pietro, quindi faccio una comunicazione. Cosa significa? Che trasmetto un Ethernet frame che passerà attraverso lo switch e andrà a comunicare con Pietro. Non farà nient'altro, questo è un comando che serve solamente per fare il controllo, se la macchina è accesa oppure no. Io già so qual è l'indirizzo, ma questo lo vedremo in seguito, quali sono gli indirizzi IP e come funziona. Per il momento io vado solo a comunicare con lui, quindi farò ping 192.168.1.2. Come vedi sta comunicando, quindi risponde. Bene, spingiamo, chiudiamo la macchina e apriamo lo switch. Vediamolo più grande e come vedi prima la MAC address table era vuota, adesso proviamo di nuovo. Vai con il tasto in alto, show MAC address table, invio. E adesso vedi che facendo solo una comunicazione col mio PC0 ho memorizzato i MAC address table. Ho memorizzato le porte nelle quali entra verso il PC o esce verso l'altro PC e li ha memorizzate nella sua MAC address table. In questo momento i due computer hanno uno unicast frame, cioè da questo momento in poi loro comunicheranno sempre in questo modo perché sono stati memorizzati nella MAC address table. Questa è anche l'altra modalità appunto per imparare i MAC address table, come fa lo switch. La stessa cosa lo farà anche per gli altri PC. Ogni volta che gli verrà inviato un frame, lui analizza l'Ethernet frame, prende il MAC address, il sorgente, la destinazione e li memorizza qui. In modo tale che ogni volta che arriva, proprio questo è anche per rendere più veloce la comunicazione, non è che ogni volta fa la scelta, solo la prima volta fa la scelta. Cioè adesso, ma in continuazione, ogni volta che io vado a controllare la MAC address table, questi MAC address saranno sempre memorizzati, in modo tale che sarà più veloce quando le tue macchine comunicheranno fa loro. Capisco che la cosa può sembrare per qualcuno un po' noiosa perché già la conosce. Per chi invece non la conosce, credo che sia veramente interessante. Noi stiamo scoprendo in dettaglio come funzionano gli switch. Queste cose che vi ho detto non è che sono poco importanti, soprattutto per chi vuole prendere la certificazione CC&A della Cisco, ci sono domande basate su questo. Potrebbero esserci, nella vostra domanda all'esame, un output di questo genere e voi dovete sapere quello che fa questa determinata opzione. E quindi quello che potete fare è solo mettervi lì, aprire Packet Tracer e continuare a provare. Ok, per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie. Grazie a tutti.